Lo sai che il gelato è nel cono proprio non te lo danno nella coppa dell'aglio Volendo si potrebbe parlare di un genere tutto va a evitare Che ai motori tu dai solo dolori Spasciare delle macchine in giugno non può essere un sogno Allora siamo qui con Nicola Giorgio Allora Nicola questa yoga si può salvare? Sì sicuramente che sì io penso che al 100% quest'anno ci salviamo Anche penso che la domanda non è per salvarsi La domanda è andare avanti di Latina Penso che adesso abbiamo partito oggi con Perugia Penso che qui possiamo fare qualche punto almeno uno E quindi penso che la partita contro Verona Cisli a casa e Vivo Valencia saranno fondamentali per nostra salvezza Per andarci avanti da Latina Sei per il primo anno a Forlì come ti trovi nella nostra città? Oh mi trovi perfettamente Sono innamorato a Forlì è molto vicino al mare Vado ogni libero momento vado al mare Quindi faccio un'esclusione Vado a Venezia, vado a Verona Quindi mi piace molto la gente Sono molto carina anche la società È perfetta quindi sono molto contento qui Vado a Venezia, vado a Venezia, vado a Venezia Vado a Venezia, 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 vado a Venezia Di un genere tutto vale evitare, che ai motori tu dai solo dolori Sfasciare delle macchine in giugno non può essere un sogno arrivare da te Sfasciare delle macchine in giugno prova a dare un gelato a un motore malato Allora prendo un chilo di buffo, bacio e tutto lo tuffo dentro al vano motore Con stupore nasce un arcobaleno che si alza dal vano e mi solleva nell'afa E' proprio Grazie a tutti! A presto! A presto! A presto! A presto!